Fermo da ieri il servizio di riflessione scolastica nelle scuole materne di pertenenza comunale. La riattivazione della mensa era avvenuta lo scorso 26 gennaio dopo un periodo di vacazio iniziato l'8 dicembre dell'anno passato. Interruzione che già in quella circostanza aveva generato le prese di posizione di molti genitori cui i bambini frequentano gli asidi licatesi. In un caso all'Olimpia di Via Castello era stato posizionato sul cancello d'entrata un cartello con la scritta alla mensa e un diritto successivamente rimosso. Da ieri il nuovo stop. Abbiamo chiesto i motivi dell'interruzione dell'importante servizio all'assessore con delega alla pubblica istruzione Daniele Vecchio. Per la verità già da ieri gli uffici si sono attivati immediatamente per consentire l'immediata prosecuzione del servizio che più tardi dovrebbe ripartire entro il primo giorno della prossima settimana. Al di là di questo vorrei ricordare che nonostante le difficoltà economiche che abbiamo un po' ereditato abbiamo garantito il servizio di riflessione scolastica per quanto non sia un servizio obbligatorio ma rientri all'interno delle priorità dell'amministrazione. È stato garantito il servizio per un periodo che negli anni precedenti non era mai stato garantito in termini di giorni e di durata. Al di là di qualche piccolo disguido quindi l'impegno su questo tipo di servizio è massimo. La rifezione pertanto si ferma 76 giorni dopo la sua riattivazione. Ieri mattina è tornata in auge la proposta riformulata da alcuni genitori per l'attivazione del servizio non per anno solare come accade attualmente bensì per anno scolastico evitando così il rischio di dover fermare la mensa e attendere l'esito delle nuove gare prima di ripristinare il servizio. Dall'inizio dell'anno scolastico è il secondo stop dopo quello antecedente le festività natalizie.